Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile, soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione. Benvenuti al meteo. Anticiclone in rinforzo, bel tempo e clima da primavera inoltrata. Vediamo il dettaglio di giovedì 14 aprile. Sul Veneto fino al primo mattino sarà piuttosto nuvoloso in pianura, poi a seguire nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o velato ovunque dal pomeriggio. Anche sui monti sarà via via sgombro da nubi. Temperature in aumento, anche sensibile e dunque molto gradevoli, minime tra 3 e 11 gradi, massime comprese invece tra i 19 e i 23 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà soleggiato, cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura in quota. Di notte possibili foschie o locali nebbie nelle valli e in pianura. Temperature minime tra 6 e 13 gradi, massime sui 20-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Si alterneranno schiarite e annuvolamenti anche intensi che localmente potranno attenuare il soleggiamento. Temperature minime intorno agli 8-9 gradi, massime sui 23 gradi. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione. Soluzioni sui 23 gradi, massime sui 24 gradi.